Ciao a tutti, sono Erika, sono una studentessa del corso di laurea in amministrazione e controllo aziendale. Nella triennale ho frequentato il corso di studi a Cuno in economia e direzione delle imprese e ho scelto poi come laurea magistrale quella di amministrazione e controllo aziendale sostanzialmente perché volevo dare un'impronta un po' più tecnica al mio piano di studi. È stata una scelta che si è rilevata molto positiva e che sicuramente rifarei perché oltre alla teoria che è molto importante e alla base di tutto i professori hanno saputo abbinare in tutte le lezioni alla teoria molta pratica pratica sotto il profilo dell'analisi di studi e di casi aziendali attraverso testimonianze di testimoni aziendali e attraverso lavori di gruppo. I lavori di gruppo in particolare si sono rilevati molto formativi e importanti almeno dal mio punto di vista perché da un lato ti insegnano a lavorare in gruppo conoscere nuove persone ed approcciarti con gli altri e dall'altra perché ti insegnano a superare quella timidezza che ci può essere soprattutto nelle prime volte nel discutere un caso in aula davanti a tante persone. Un ultimo aspetto che ritengo molto positivo e non è da sottovalutare sono i professori che insegnano in questo corso di studi, tutti molto preparati e professionali e soprattutto tutti che sanno trasmetterti l'entusiasmo che hanno e l'amore per il proprio lavoro che rappresenta sicuramente un'importante guida per tutto il percorso di studi. Buona scelta, ciao!